Ciao a tutti. Per come la vedo io le cose mi sono andate molto male. Per un uomo orgoglioso come me non lavorare e dipendere dallo Stato è una cosa brutale. Se mi sa mancare quello però io non saprei proprio più come fare. Mi vedo in un culo sacro. Non mi dispiace, mi fa male. Grazie. 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 Grazie.